5 anni di legislatura, 144 leggi approvate e nuove regole per le elezioni. Via libera alla legge di riordino 2024. Benessere animale, nuove norme e sanzioni, tra le novità il divieto di tenere i cani alla catena. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati in primo piano il bilancio di fine legislatura 2019-2024, l'undicesima del Consiglio regionale del Piemonte che volge al termine. 144 leggi approvate, di cui una di modifica statutaria. Si tratta della nuova legge elettorale che garantisce maggiore rappresentanza ai territori, maggiore efficienza grazie alle supplenze e che introduce la parità di genere. 298 sedute, 112 disegni di legge dalla Giunta e 196 proposte di legge. Questi alcuni dei numeri salienti dell'attività dell'undicesima legislatura del Consiglio regionale del Piemonte. Cinque anni segnati dalla pandemia da Covid durante i quali sono state approvate norme di sostegno come il bonus a fondo perduto per garantire liquidità, per esempio al commercio, al turismo, alla cultura, allo sport dilettantistico e al mondo agricolo, ma anche norme di semplificazione e sburocratizzazione. Abbiamo cercato di ascoltare gli imprenditori, le associazioni di categorie del territorio per migliorare il sistema legislativo. Abbiamo fatto la legge elettorale, una legge elettorale moderna. Abbiamo fatto la legge sul Piemonte per dare enfasi a tutte le realtà territoriali che fanno grande il Piemonte. Stiamo svolgendo come uno degli ultimi atti l'inno del Piemonte. Tante anche le iniziative sostenute dal Consiglio regionale, ricorda il Vicepresidente Francesco Graglia, nel quinquennio sono stati istruiti e concessi complessivamente 775 patrocini gratuiti e 1.454 patrocini onerosi. Grande anche l'impegno del Comitato Resistenza e Costituzione, che ha svolto con intensità la propria missione con linguaggi nuovi rivolti soprattutto alle giovani generazioni. Mantenere l'attualità della memoria e del ricordo nel momento in cui stanno venendo meno i testimoni diretti della storia, delle storie più importanti del Novecento. Innalzata l'attenzione contro il fenomeno dell'usura attraverso concorsi con oltre 600 studenti coinvolti e iniziative pubbliche con l'osservatorio Usura e la ricerca vite a debito. Lavorare sulla prevenzione, noi così abbiamo fatto. Lo stesso modo abbiamo lavorato con la consulta femminile, un tema oggi importante, la violenza sulle donne. Intenso il lavoro fatto con ambasciatori del Consiglio regionale rivolto agli studenti, gli stati generali della prevenzione del benessere e quanto fatto per la transizione digitale del Consiglio. Abbiamo sostenuto iniziative importanti come Life is Pink, tutte le iniziative che riguardano la ricerca per combattere il cancro. A livello digitale, informatico, siamo stati il primo Consiglio regionale a votare online durante la pandemia. Rilanciata anche la consulta europea, rimarca il consigliere segretario Michele Mosca, con il rafforzamento della collaborazione con gli enti locali, con il coinvolgimento ancora maggiore degli istituti scolastici e con la ripresa dei viaggi premio nelle istituzioni europee. La conferenza stampa di fine legislatura è stata anche l'occasione per presentare gli imponenti lavori di restauro che stanno interessando la sede del Consiglio regionale e per inaugurare la mostra Palazzo Lascari se i suoi abitanti. Abbiamo scelto di riportare il palazzo all'antico splendore, ha dichiarato il presidente Stefano all'Asia, opere necessarie per salvaguardare un complesso aulico straordinario e renderlo funzionale all'attività legislativa dell'ente ed aperto ai cittadini che vorranno visitarlo. L'esposizione Palazzo Lascari se i suoi abitanti racconta la storia del palazzo barocco di Via Alfieri attraverso documenti originali, fotografie e video e con la rappresentazione degli abitanti del palazzo in quattro secoli di vita assieme ad alcuni memorabilia, come un abito da ballo di metà ottocento e alcuni importanti documenti d'epoca. Approvata dall'Aula la legge di riordino 2024. Approvata a maggioranza dall'Aula con 25 voti favorevoli e 15 contrari la legge di riordino dell'ordinamento 2024. Come spiegato dalla relatrice Sara Zambaia, Lega, si tratta dell'annuale normativa che aggiorna e rivede le leggi regionali adeguandole a quelle europee e statali ma adattandole anche alle nuove esigenze. Le materie di cui il provvedimento si occupa riguardano l'ambiente, le foreste e il governo dei territori, le cooperative sociali, le società partecipate, i trasporti, la caccia e la pesca, la vigilanza sulle farmacie, polizie e servizi veterinari, promozione turistica, cave, psicologia scolastica con precisazioni riguardo il bullismo. Approvato un emendamento dell'assessore Elena Chiorino presentato da Maurizio Marrone, che estende anche l'ottica all'iniziativa dell'odontoiatria sociale, già prevista con una legge in questa legislatura. Daniele Valle, Partito Democratico, ha proposto un emendamento riguardo la gestione dei beni comuni, che prevede l'utilizzo anche di quelli occupati abusivamente nei cinque anni antecedenti. Non c'è solo il Centro Sociale a Scatasuna di Torino, ha precisato Valle, riferendosi al caso, ma ce ne sono anche altri in Piemonte. Nel dare parere contrario all'emendamento, ha preso la parola l'assessore Marrone, spiegando che la recente norma sui beni comuni è di carattere generale. Quanto al caso a Scatasuna, si pone anche un criterio morale. Quella è una realtà promotrice in diverse occasioni di atti di inaccettabile violenza. Il Presidente all'Asia è poi intervenuto sull'emendamento a cui l'Aula ha dato il via libera per istituire l'inno del Piemonte. Un tempo si utilizzava la Monferrina, oggi il Centro Gianni Oberto ha invece scelto un inno più solenne, utilizzando due poesie di Camillo Brero e la musica di Fulvio Creux. Divieto di tenere i cani incatenati. Questa è una delle norme introdotte dal testo unico sul benessere animale, approvato all'unanimità dall'Assemblea. Lotta al randagismo, divieto di tenere i cani alla catena, tranne alcune eccezioni specifiche, possibilità per i padroni di essere tumulati con i propri animali d'affezione, sensibilizzazione contro abbandoni e maltrattamenti, istituzione della figura del pet sitter, istituzione di cimiteri per gli animali, adozione del Sistema Nazionale Anagrafi Animali di Compagnia. Sono queste alcune delle novità introdotte dal testo unificato in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, approvato all'unanimità dall'Aula. Il provvedimento è la sintesi del DDL, presentato dall'assessore al benessere animale Chiara Caucino, e delle cinque proposte di legge di Carlo Riva Vercellotti, Fratelli d'Italia, Letizia Nicotra e Giovanni Battista Poggio, Lega, per la maggioranza, e da Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre Unione Popolare, e Raffaele Gallo, Partito Democratico, per l'opposizione. Il testo, 42 articoli suddivisi in cinque titoli, riordina la normativa regionale in materia, estanzi a 500 mila euro annui per il triennio 2024-2026. Andiamo a superare di fatto la fremmentarietà, la confusione, lo scordinamento legislativo in una materia, quella della tutela degli animali d'affezione, all'interno di un testo organico, coordinato. Un tema su cui abbiamo lavorato è quello della sensibilizzazione della popolazione, dei cittadini, tutti gli esseri viventi meritano dignità. Il Piemonte si dota di una nuova legge sulle funivie. Approvata maggioranza in aula, con 23 voti favorevoli e 12 astenuti, la legge che disciplina gli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto delle persone, che riguarda autorizzazioni e concessioni anche per gli impianti di risalita sulle piste da sci. Walter Marin, Lega, relatore di maggioranza, ha sottolineato come questa legge costituisce un'importante riforma delle norme sulle funivie e per tutti gli impianti sciistici delle nostre montagne. Maurizio Marello, Partito Democratico, relatore di opposizione, ha rimarcato che in un'ottica di semplificazione la competenza per la concessione degli impianti va ai comuni e alle unioni montane. Il provvedimento, costituito da 40 articoli, abroga una legge precedente del 1989 e ne modifica un'altra del 2009, aggiornando la normativa regionale che riguarda gli impianti di funivie in servizio pubblico di nuova costruzione, le concessioni, le autorizzazioni, la dichiarazione di pubblica utilità, la durata di esercizio degli impianti. Una serata al circolo della stampa di Torino per sensibilizzare e informare sul tema della disabilità. Il Comitato regionale per i diritti umani e civili, in linea con la sua attività che per il 2024 è incentrata sul tema della disabilità, ha promosso la seconda edizione della giornata internazionale dei diritti umani intitolata Solidarietà per la disabilità e l'inclusione sociale. L'iniziativa ha previsto momenti di sensibilizzazione e informazione su sensorialità e disabilità e un evento spettacolo al circolo della stampa di Torino presentato da Elena Presti a cui hanno partecipato vari artisti. La disabilità, l'inclusione sociale temi a noi molto cari, non solo nell'ambito del Comitato, ma soprattutto nell'ambito dell'attività legislativa e politica che abbiamo svolto in questi cinque anni di Consiglio regionale. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! Grazie! 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 Grazie a tutti